Dunque come fare la valigia di viaggio perfetta per il giro del mondo servono assolutamente un po' di maglietti, dei pantaloncini, dei pantaloncini pantaloncini corti per la guai, pantaloni pesanti per outland che è inverno poi ci saranno costumi da bagno, uno, due, anche tre poi assolutamente bisogna mettere felpe oggetti, gadget elettronici, ebook, tablet passaporti, due, uno, quinto, uno, vero non si sta mai per reganare la polizia poi assolutamente servono due ticket che è il tutto necessario soprattutto tra chi è minatorina per tenere botta al jet lag un cappello di paglia, un cappello del cavolo due cappelli bianchi assolutamente inutili una coppa di argento per vu maglietta a volontà, mutande e calze e quanto basta un grandangolo per l'effetto penne e notebook da giornalista a professoressa di viaggio e basta così